Ciao ragazzi, bentornati ad un mio nuovo video. Sono Beppe Lindo, per chi non mi conoscesse, personal trainer con oltre 15 anni di esperienza e ovviamente testata. Allenamento su di me ogni cosa che io faccio. Adesso andiamo là senza perdere tempo. Vi voglio mostrare un allenamento di soli 5 minuti in qualsiasi posto che voi volete. Basta avere solo dentro il telefono con voi, portarvi dietro, aprire YouTube e guardarmi in un posto che a voi vi piace, senza attrezzatura. Per guadagnare, ragazzi, voi uomini e anche donne, massa muscolare. Adesso vi mostrerò gli esercizi. Questo allenamento prende solo da 5 a 8 minuti, quindi è fattibile, potete farlo anche tutti i giorni, ok? Quindi il vostro risultato dipende sempre dalla vostra costanza. Andiamo ad eseguire, a vedere gli esercizi senza perdere più tempo. Ecco ragazzi, venite? Vi mostrerò prima gli esercizi. Sempre con voi, allora. Primo esercizio. Andiamo a seguire il depiegamento sulle braccia. Per chi non ce la facesse stare sulla punta dei piedi, possiamo appoggiare le ginocchia e andare a eseguire questo. E fare il movimento completo. Vi raccomando. Il muscolo deve lavorare al 100%. Per chi non ce la facesse, tu fai la punta dei piedi. Per chi non ce la facesse, 1, 2, 3, ok? Secondo esercizio, andiamo ad eseguire dei split. Sempre la stessa posizione. Mani. 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3, ok ragazzi? Terzo esercizio. Andiamo ad eseguire. Ok? Tocchi. Posizione. Di plank. Ginocchio. Gomito. Ragazzi lo mostro. Quarto esercizio. Mettiamo le mani. Ragazzi. Ok? Facciamo incontrare pollice e indice. Far allelo ai nostri occhi. Allentiamo bene. Chiudiamo. Estendiamo. 1. Appoggiamo bene il petto e estendiamo. 2. 3. 8. Difficile. Ok? Ok? Adesso mettiamo il conometro. Eseguiremo. 40 secondi di lavoro e 20 di riposo. Ok? Partiamo. Conometro. Ci siamo ragazzi. Facciamo il tempo. 3. 2. 1. E Кonali. 1. 2. E 100. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!